Buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo nostro appuntamento con l'informazione. L'Olimpiadi si sono chiuse ieri, appuntamento ora a Parigi 2024, ma la festa per Jonathan Milan, oro olimpico nel ciclismo su pista in seguimento a squadra è appena cominciata, anzi qui in Piole Venezia Giuri deve ancora iniziare. Il primo passo sarà questa sera alle 23, quando arriverà in aeroporto a Venezia e ad accoglierlo ci sarà oltre alla famiglia una folta delegazione di Buiesi. Ore 23, aeroporto Marco Polo di Venezia, l'abbraccio più atteso. Il ventenne Jonathan Milan torna in Italia dopo l'avventura più incredibile della sua vita, l'oro olimpico conquistato a Tokyo nell'inseguimento a squadra su pista assieme ai compagni Filippo Ganna, Simone Consoni e Francesco Lamon. Il giorno dopo la chiusura delle Olimpiadi e l'arrivederci a Parigi 2024, l'atmosfera a cinque cerchi si trasferirà con lui da Tokyo a Venezia e da lì a Buia dove i compaesani hanno preparato una grande festa per quel ragazzo che così tanto le ha fatti emozionare e resi orgogliosi. Due giorni almeno di festeggiamenti per lui e per la sua famiglia che negli ultimi mesi aveva visto pochissimo, sempre impegnato in allenamenti con la squadra per preparare quello che è stato l'appuntamento con la storia. Questa sera potrà anzitutto rivedere mamma Elena, papà Flavio, il fratello Matteo, la fidanzata, gli amati nonni e non solo. In serata infatti da Buia partirà una corriera diretta a Venezia carica di tutti coloro che vorranno applaudire Jonathan già in aeroporto. Domani sera poi il Toro di Buia, questo suo soprannome, sarà festeggiato in piazza con una serata pensata appositamente per lui che farà rivivere le emozioni di una delle gare più belle di questa Olimpiade e di quell'oro che ha contribuito al record di medaglie per l'Italia in una rassegna a cinque cerchi. La cronaca ora, un uomo di Cussignacco, Bruno Bonetti di 79 anni, originario di Santa Maria la Longa, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale che è accaduto attorno alle 17 lungo la ex provinciale 2 tra Percoto di Pavia di Udine e Trivignano Udinese per cause da vagliare ad opera dei carabinieri della compagnia di Palmanova mentre viaggiava da solo ha perso il controllo della propria auto ed è finito prima in un fossato e poi si è schiantato contro un terrapieno. Immediata la chiamata al 112 da parte degli automobilisti di passaggio, il personale sanitario lo ha estratto dall'abitacolo e ha tentato la rianimazione purtroppo senza risultati. Sul posto i vigi del fuoco del comando di Udine a supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza del veicolo incidentato. Un 44enne di mosse ricoverato in gravi condizioni alla Cattinara di Trieste a causa delle ferite che ha riportato in un incidente stradale in sella allo scooter si è scontrato con un capriolo che gli ha improvvisamente tagliato la strada uscendo dalla Boscaglia lungo la ex provinciale 68 a Fiumicello di Villa Vicentina. È accaduto ieri sera attorno alle 21.30. Ferito e confuso, l'uomo ha poi percorso mezzo chilometro per accasciarsi a terra per un malore. È stato notato da una guardia giurata del corpo di vigilanza notturna che ha allertato i soccorsi ed è stato portato poi in elicottero dai sanitari al Cattinara. Ha riportato diverse lesioni, in particolare un serio trauma toracico non è comunque in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente i carabinieri di Fiumicello e di Cervignano oltre ai vigi del fuoco del distaccamento sempre di Cervignano. Grazie a un cospicuo finanziamenti erogato dalla regione il comune di Codroipo ristrutturerà Villa Balli col suo grande parco. Qui sarà trasferito il museo archeologico e sarà creato un polo culturale per tutto il medio Friuli. Ce lo spiega l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Bianchini. Era un vecchio compendio nel centro del cittadino in cui per diverso tempo è in stato di abbandono anche perché l'amministrazione comunale non aveva le risorse necessarie per poter intervenire anche minimamente e in collaborazione col sindaco, il mio collega alla cultura e altri nostri colleghi consiglieri comunali, è stato deciso di presentare un progetto a suo tempo per recupero sotto l'aspetto culturale, quindi la realizzazione di un nuovo contenitore culturale espositivo, il trasferimento anche dell'attuale museo archeologico attualmente contenuto nelle carceri piuttosto che la realizzazione di un riferimento anche rispetto sovracomunale, finalmente abbiamo ottenuto, almeno dalle notizie avute sono importanti per il cospicuo finanziamento ricevuto per finalmente poter intervenire e ristrutturare questo importante fabbricato e che darà un grande valore culturale ma non solo riqualificherà una parte importante di Codroio perché fa anche il paio con il vicino teatro che è in fase di illustrazione con un cospicuo investimento sia regionale che comunale che con la biblioteca comunale che a suo tempo ha avuto diversi interventi ma in particolare è in via di completamento la parte esterna, il giardino in cui sarà utilizzato per eventi e anche spettacoli piuttosto all'aperto nel periodo estivo e quindi si completerà questo circuito culturale anche di svago all'interno del centro cittadino di Codroio. Dopo Pordenone e Udine anche a Nimis si è celebrato il primo matrimonio in lingua friulana nel paese del Ramandolo, il primo a scegliere l'uso della marilenghe per suggellare le nozze non poteva che essere DJ Tubetto, ovvero il rapper che ha fatto del friulano uno strumento di strofe e rime da fiancare alle sue basi musicali. Il matrimonio fra Mauro Tubetti, questo il suo vero nome alla nagrafe, la colombiana Ibarguen Milena Maciado si è tenuto sabato scorso nella sala consigliare del comune celebrato dall'assessore Serena Vizzutti che ha prima letto gli articoli in italiano e ha poi tradotto gli stessi in lingua friulana. La lingua friulana ci ha spiegato il cantante è un diritto conquistato da utilizzare in tutti gli aspetti della vita così come nelle istituzioni pubbliche. Un matrimonio, ha sottolineato l'assessore Avizzutti, non solo al passo con i tempi ma anche un atto storico importante per la comunità. E ora vediamo proprio un estratto del matrimonio, ovvero l'annuncio e la pronuncia del atteso Sì, lo voglio. Lui, signor Tubetti Mauro, è contenta di capare come femmine la chi presenta signora Ibarguen Maciado Sandra Milena? Sì, è un amore. Io, signora Ibarguen Maciado Sandra Milena, è contenta di capare come uomo la chi presenta Tubetti Mauro? Sì, sì. La comare e il copare, anzi tu? Sì. Scoltatevi i vostri risuosti affermativi, io, Serena Lizzutti, ufficiale da Stato Civile, in onda lecce, ovviamente lai ome femmine. Grazie. Grazie. E ora andiamo in Alta Valtorre, dove l'amministrazione comunale ha valorizzato l'area del torrente Vedronza, un oasi verde che è molto ricercata in estate per la sua frescura. Stop al degrado che per anni ha caratterizzato le aree verdi di uno dei luoghi più belli e frequentati della nostra valle, quello del torrente Vedronza. Il vice sindaco di Lusevera, Mauro Pinosa, insieme all'amministrazione comunale, fa riferimento al getto indiscriminato di immondizia lungo le sponde del corso d'acqua e nei boschi, da parte di frequentatori incivili, specialmente in estate. Siamo stati costretti a eliminare i cestini e a installare i cartelli di divieto di abbandono dei rifiuti, spiega. Il provvedimento ha dato subito l'esito sperato. E poi abbiamo eseguito per la prima volta quest'anno un ampio sfalcio lungo tutto il tracciato fino al terzo guado e anche la strada di accesso è stata finalmente messa in sicurezza per permettere a chi cerca fresco e relax di accedere a questa piccola oasi incontaminata e in piena sicurezza. D'estate si contano fino a 300 automobili. Nel prossimo futuro pensiamo di attrezzare l'area e di chiedere come piccolo rimborso spese per la manutenzione il pagamento e il posteggio, conclude il vice sindaco. Si è sgretolato poco a poco negli ultimi mesi la fresco del bambin Gesù in braccio alla Madonna all'interno del tabernacolo di via Pradamano a pochi metri dalla scuola media Enrico Fermi. A causa di una infiltrazione d'acqua e dei continui sbalzi di temperatura estivi, l'intonaco su cui era stata dipinta l'immagine sacra, si è irrimediabilmente compromesso frantumandosi quasi interamente. Sono state fatali le piogge degli ultimi dieci giorni. Nelle immagini che vedete la fresco come era stato immortalato da Telefriuli lo scorso aprile e come invece appare oggi. La storica nicchia di proprietà privata era uno dei luoghi in cui gli abitanti della zona di passaggio nel quartiere si fermavano fino a qualche decennio fa per una piccola offerta per accendere un acero votivo. Rammaricati gli abitanti e i fedeli di Baldasseri affezionati a quel piccolo angolo di raccoglimento. A Cividale, al Museo Archeologico, si è tenuto il concerto inserito nel festival Musica Cortese. Vediamo. Musica Cortese, il festival di musica antica in svolgimento nei centri storici del Friuli Venezia Giulia, mirato all'esplorazione del Codice Rossi, la più antica forma musicale dell'Ars Nova italiana, ha fatto tappa al Museo Archeologico Nazionale di Cividale dedicata al Madrigale, composizione lirica in maggior parte per gruppi a tre o cinque voci, diffusa in particolare fra Rinascimento e Barocco. Come ha ricordato nella prolusione Riccardo Drusi, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, sull'origine della parola a tutt'oggi discussa, se ne ipotizza l'etimologia fra il latino volgare Mandria Mandrialis, in riferimento al contenuto rustico pastorale, il provenzale Mandria Gal, canto pastorale provenzale, e lo spagnolo Mandrugada, Alba. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio fra storia e musica dell'Ars Nova italiana è stata la Manticora, ensemble formata da Carla Babelegoto ed Enea Sorini alla voce, Peppe Frana al liuto chitarrino, Alessandro De Carolis ai flauti e Raffaele Tiseo alla viella ribeca. E se già Dante ha scritto brevi liriche nel purgatorio destinate ad essere musicate, i primi madrigali noti sono del 1330 circa, a due e raramente a tre voci, di cui la prima melodica e la seconda più bassa. Tra poco l'appuntamento con A voi la Lina, per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci, buona giornata. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.